Formazione Unindustria è nato insieme per confrontarsi sul tema della crisi. In platea numerosi imprenditori, in cattedra, importanti rappresentanti dell'organizzazione militare di difesa che ogni giorno agiscono dal loro quartier generale di Bruxelles. Mantenere un equilibrio tra i 28 paesi membri, non perdere consenso, affrontare momenti di forte crisi politico-militare o sociale e affare di ogni giorno a Bruxelles. Così come nelle aziende del nord-est le parole crisi, scelta, intervento, soluzione ai problemi in questi due anni sono state pronunciate più volte. Obiettivo allora è prevenire, farsi trovare pronti, cogliere e comprendere i segnali di una imminente crisi. Non arrivare al momento in cui arriva la crisi perché ormai è dichiarata e quindi, come si vuol dire, le mucche sono uscite dalla stalla. Ma pensarci prima, quindi simulare che cosa potrebbe succedere se domani il mercato X cede piuttosto che se la valuta, il dollaro sale, piuttosto che... Ecco, in modo da avere dei sistemi di protezione o può rinnesso una serie di cauteli che possano contenere l'eventuale rischio conseguente a evoluzioni esterne all'azienda. Ma quali sono gli elementi principali per non farsi trovare impreparati di fronte ad una crisi? Nella comunicazione così come in genere nella digestione di una crisi l'elemento principale è la pianificazione, la preparazione, rendersi conto dall'inizio che c'è una crisi che si sta avvicinando, prendere le misure necessarie per poterla affrontare, rendersi conto della gravità della crisi e quindi non esagerare ad esempio con le misure di intervento ma nemmeno sottostimarle e poi occuparsi di tutte le varie fasi della gestione della crisi. Ecco allora che il parallelismo vertici Nato e imprenditori del Nord-Est trova significato e grande valore acquista alla comunicazione. Chi è responsabile di un'organizzazione internazionale come la Nato, chi è un imprenditore deve uscire in prima persona, deve comunicare, deve comunicare con il mondo esterno e proprio i lavoratori ad esempio che c'è una crisi in corso, che magari è necessario fare un momento di sacrificio e prepararsi e lavorare in modo che poi quando la situazione migliora si ritorna alla normalità.